Le meticolose indagini portate avanti dalla Guardia di Finanza di Taranto sul mandato della Procura della Repubblica hanno portato all'arresto di un imprenditore della provincia di Varese che è stato posto ai domiciliari per bancarotta fraudolenta aggravata, occultamento della documentazione contabile e autoriciclaggio. La misura prevede anche che non possa esercitare per 12 mesi l'attività d'impresa. Tutto nasce dal fallimento nel 2022 di un'azienda amministrata dall'imprenditore Varesino del settore tecnologico del petrolio la cui sede legale nella fase pre-fallimentare era stata trasferita da tradate nel capoluogo ionico. Secondo l'accusa l'imprenditore ed altri 5 indagati hanno distratto l'intero patrimonio aziendale dell'impresa sottoposta alla procedura concorsuale del valore complessivo di circa un milione di euro a favore di due società con sede in provincia di Varese riconducibili allo stesso imprenditore. Secondo le nostre informazioni i finanzieri si sono trovati di fronte al solito espediente delle scatole cinesi aziendali lasciando ad una soltanto i debiti. Infatti le due società Varesine avrebbero illegittimamente beneficiato della disponibilità finanziaria del patrimonio aziendale, dell'avviamento e delle maestranze dell'azienda fallita oramai gravata dai debiti e non più in grado di operare in quanto svuotata delle proprie risorse. Per queste motivazioni il GIP del Tribunale di Taranto su richiesta della Procura ha disposto il sequestro dell'intero compendio aziendale e delle quote sociali di una delle imprese beneficiarie del patrimonio della SRL fallita, nonché di un immobile per un valore complessivo stimato di circa 400 mila euro. Il Tribunale di Taranto ha disposto l'affidamento della società sequestrata ad un amministratore giudiziario.